Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta. Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia chiuso in entrambe le direzioni lo svincolo di Rosignano Marittimo. La viabilità cittadina a Firenze in via dello statuto a causa di un incidente, restringimento di carreggiata e traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!